La stazione è il biglietto da visita di una città. Il turista arriva e ovviamente ha il primo impatto con la città attraverso la stazione. A Taranto l'ex sindaco Melucci ha raccontato soltanto favole sul turismo, peraltro contornandosi di uno staff assolutamente inadeguato a promuovere il turismo. La favola del SailGP, 3 milioni e mezzo di euro di danaro pubblico buttati, sprecati e poi vedete lo stato di decozione assoluta in cui si trova la stazione di Taranto, Piazza della Libertà. Ma avete mai visto voi una città in tutta Italia o anche nel resto del mondo, tranne ovviamente i paesi sottosviluppati, che non ha un bar? Qui alla stazione di Taranto da quasi due anni il bar è chiuso. Immaginate un po' altre città, cittadine, paesini hanno un bar, hanno un ristorante, hanno un punto per il food e drink. Qui nulla, chiuso da due anni. È ovvio che non è che un'amministrazione comunale apre o chiude un bar, ma stiamo parlando di un'amministrazione comunale che non ha saputo dare un impulso affinché in una città meritevole come Taranto vi fosse alla stazione un bar. E così si vuole promuovere il turismo a Taranto? E così l'ex sindaco Melucci ha il coraggio di dire Taranto capitale del turismo, capitale del mare? Certo Taranto è capitale del mare, ma è un mare che un'amministrazione come quella di Melucci ha distrutto. Guardate che immagine triste, un bar completamente svuotato come si vede dalla vetrata. Così l'amministrazione Melucci voleva promuovere il turismo. Va bene che la manderemo a casa perché è indecoroso, è indecente che una città come Taranto debba essere amministrata in questo modo. Questo stato di degrado, questo stato di abbandono favorisce purtroppo la criminalità. In molti casi abbiamo registrato tantissime situazioni di violenza che sono accadute nelle ore notturne. In particolar modo abbiamo registrato addirittura delle aggressioni nei confronti di forze dell'ordine, dei poliziotti. Sicurezza Taranto zero. Responsabile anche l'amministrazione Melucci, sì sì, perché un'amministrazione è responsabile della sicurezza che deve saper concertare gli interventi insieme alle altre forze dell'ordine. Vivibilità e sicurezza, oltre che ambiente al centro del mio programma. Un bar chiuso da due anni. Vergogna. Ma spostiamoci in altri punti e vi facciamo vedere il resto del degrado. Questi sono i marciapiedi adiacenti alla stazione, nel piazzale della stazione. Guardate, forse le pecore verranno a pascolare, le capre. Guardate, guardate. Marciapiedi completamente rotti. Guardate qui. Che scempio, che schifo. Guardate. Marciapiedi completamente rotti. Cosa incredibile. Questa è la rinascita di Taranto. Questa è la rinascita di Taranto, che l'ex sindaco Melucci tanto propaganda al mondo intero. Ecco, questo è il valore della tua amministrazione, Melucci. Ma mica solo qui. Guardate, guardate. Altri marciapiedi rotti, completamente divelti. Altra immondizia e altra erbaccia. Erbaccia che è cresciuta negli anni. A dimostrazione proprio che non c'è stato mai un intervento. Questa è Taranto, amministrata da signor Melucci. Quindi uno dei tanti motivi in più per mandarlo a casa per sempre. L'amministrazione Melucci ha pensato soltanto a mettere le mani nelle tasche dei cittadini attraverso tasse, balzelli, attraverso parcheggi a pagamento, strisce blu. Guardate qui, si paga H24, come recita il cartello, dalle ore 00 alle ore 24 e 00. L'intera giornata H24 parcheggia a pagamento dove? In una situazione di degrado assoluto, di scempio, di schifo. Guardate, si sono ricordati però di ritinteggiare le strisce blu. Mica si sono degnati di togliere l'erbaccia, di rifare i marciapiedi. Un'amministrazione scadente, vergognosa, fallimentare dal punto di vista amministrativo. Questa è l'immagine, la vera immagine dell'amministrazione Melucci. Soldi tolti ai cittadini, servizi zero. Vedete, mi candido sindaco, perché dopo vent'anni di attività giornalistica, di continue denunce, soprattutto sull'ambiente, sulla vivibilità urbana, mi sono stancato. O me ne andavo da Taranto, oppure ho detto insieme ai tarantini di buona volontà, diamo una svolta. Penso che sia arrivata quest'ora, perché questo piazzale della stazione è uno scempio, è un'offesa a Taranto e ai tarantini, una situazione di abbandono e di degrado assoluto. Taranto merita di più. A casa Melucci!